Ecco, solo per fare un esempio su questa tecnica, questa è una pava over 2,5. In cosa consiste in pratica? Consiste nell'entrare in una posizione over 2,5 prima che inizi il match con la chiara intenzione di dire cosa. Andiamo a vederlo su un grafico in maniera che ci rendiamo bene conto di cosa sto spiegando. Questo qua è il grafico che sta formando già una fase di congestione, si può entrare in questo over, ovviamente cosa succede? Se mi arriva un gol in un over la quota cala, ma se non mi arriva in un gol, guardiamo bene qua, la quota non mi sta salendo, cioè non mi sta andando contro e forma una fase di congestione prima del match, durante i primi minuti del match e noi siamo dentro la nostra operazione con un rischio bassissimo. Mettiamo magari, come in questo caso, 13 euro di puntata, per andare a fare un profitto di 15,39 o una perdita di 13, ma nei primi minuti se arriva il gol noi siamo a rischio praticamente zero per andare a guadagnare una buona somma. Poi cosa succede? Arriva il gol, perché anche questa qua è una cosa importante, arriva il gol e la quota comunque mi resta sempre piatta, mi fa esattamente un'altra area di congestione e questo cosa mi sta dicendo? Non serve che esci perché ovviamente il tuo profitto in questo momento rimane sempre quello, la cosa migliore che può capitare è che arrivi un altro gol e infatti è arrivato, vediamo, e il grafico è sceso ancora. A questo punto il nostro profitto diventa abbastanza interessante perché stiamo prendendo su un rischio di 13, ne stiamo prendendo quasi 11 e su 15 e 39 che potremmo andare a guadagnare. Ovviamente c'è tutta la partita davanti, adesso con molta cautela cosa farò a mettermi un rischio zero e cosa mi interessa se arriva o non arriva il terzo gol. Io comunque sto già guadagnando, sto guadagnando praticamente quasi tutto quello che potrei guadagnare aspettando, ma perché mi devo prendere un rischio? Mi vado semplicemente a coprire, mi vado semplicemente a mettere un rischio zero, mi vado semplicemente anche a fare un arbitraggio sulla mia posizione e dire ok, non arriva il gol guadagno X, arriva il gol guadagno X, comunque devo chiudere la posizione in guadagno. Qui sul canale ci sono altri video su questa tecnica, è una tecnica molto semplice, basta individuare delle squadre che hanno una buona professione al gol nei primi minuti. Certo adesso stiamo parlando di un amichevole internazionale e nazionali prima dei campionati europei e queste sono tecniche che magari possono dare più riscontro in un campionato, in squadre che segui, in campionati che segui. E l'idea buona qual è? Sto dentro un po' di minuti, non sto rischiando niente o poco niente, ma se arriva il gol guadagno tanto. Poi, se questa questione della fase di congestione permane, è bene, se la questione della fase di congestione permane, anch'io cerco di tenermi la posizione aperta. Ed è quello che abbiamo fatto qui nel primo gol, perché, cioè, se sto guadagnando magari 6 euro, 8 euro, ma restano quelli o mi possono variare di qualche centesimo, resto dentro, resto dentro finché la posizione non inizia ad andarmi contro. A quel punto prendo la mia decisione, esco, mi metto a rischio zero. No, aspetto, perché potrebbe arrivare il terzo gol. A questo momento, però, che arrivi o no il terzo gol, a me non interessa. Io sono Massimo Pava, sono un trader sportivo professionista, uno speculatore sportivo professionista, e vi do appuntamento al prossimo video qui sul mio canale. A presto.